PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto alla puntata 31 di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Vosati al microfono e dall'altra parte del monitor Marco Pennacchini, sound designer del podcast, anche oggi pronto con la sua pillola digitale per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. In questa puntata parleremo di vacanze e di come queste siano cambiate dopo il DL 132 2014, che ha ridotto la feriale da 45 giorni a 30 e dopo il processo telematico che non conosce sosta per gli avvocati tecnologici. Ormai il Polisweb ci fa accedere ai fascicoli informatici H24 e consultare lo scioglimento di riserve del giudice che tanto aspettavamo, oppure vedere le note di controparto senza limiti di orario o di apertura dell'ufficio. Via Pecca arrivano gli avvisi di cancelleria anche durante le ferie, senza che ci vieni a bussare alla porta del nostro studio l'ufficiale giudiziario. Insomma, la professione forense sta cambiando in modo radicale. Infatti questa puntata nasce da alcuni spunti che ho ricevuto in questa settimana di ferragosto trascorso e che saranno al centro della prima parte. La seconda parte, dopo la mini pillola di Marco, sarà più tecnologica. Ti segnalerò alcuni strumenti e soluzioni tecnologiche che tuo avvocato tecnologico dovrai avere per passare un'estate serena e senza imprevisti. Ma prima ti ricordo, se ti sei perso alcune puntate, dove puoi riascoltarle? Vai sul sito avvocato tecnologico.it o sul canale telegram pct facile, se sei utente telegram. Oppure collegati su soundcloud.com slash fposati, oppure su speaker e itunes cercando pct facile. Se sei utente itunes, lascia anche una bella recensione a 5 stelle per far scoprire il podcast ad altri utenti, oppure condivido tra i tuoi contatti social. Puoi contribuire anche al progetto in crowdfunding su patreon.com slash fposati, oppure finanzia la messa in onda tramite la pagina paypal.me slash fposati slash 5, come ha fatto Maurizio Marigliano, il nostro produttore esecutivo di questa puntata che oggi ringrazio. Applausi dalla regia. Iniziamo. Questa puntata è proprio a te dedicata, a te che stai in vacanza godendoti gli ultimi istanti in attesa di settembre, o a te che sei appena rientrato avvocato tecnologico e con una certa nostalgia guardi le immagini del mare o della montagna che hai condiviso sul tuo profilo social. Come ti ho detto anche nel lancio, la puntata nasce da diversi spunti della rete. Il primo è autobiografico. Sul mio profilo Instagram chiocciola fposati e su Facebook ho postato una foto del mio portatile con la mia attrezzatura tecnologica da nomade digitale. Mi trovavo in conservatoria dei registri immobiliari di Roma per la presentazione di una domanda di trascrizione. Nonostante il 16 agosto, dove il viale Ciamara era completamente deserta, i negozi chiusi per fare, i pc destinati all'utenza dell'ufficio erano fuori uso, tuttavia ero perfettamente autonomo e autosufficiente. Potevo collegarmi a internet, aggiornare i miei profili social, scrivere delle memorie, insomma potevo lavorare. Se non fossi stato tecnologico quelle ore di attesa serbbero state perse, ma così non è stato, perché è connesso con il mondo. Il secondo spunto è stato l'articolo pubblicato dal portale giuridico studio cataldi.it il 13 agosto 2016, dal titolo Niente ferie, siamo avvocati, che rappresentava la riflessione semiseria sulla scelta del legislatore di ridurre la sospensione feriale dei termini processuali, sulle conseguenze non solo lavorative ma anche familiari che la riforma ha comportato. Infatti il legislatore si è morso sulla falsa illusione che tale riforma avrebbe accelerato i tempi lunghi dei riprocessi, come se il problema fosse dei 15 giorni in più di feriale concessa agli avvocati tramite la sospensione dei termini processuali. Tra i vari aspetti che l'articolo tocca, io ho letto tra le righe un certo rimpianto verso una dimensione della professione forense statica, legato ai suoi ritmi lenti e abitudinari, suoi luoghi sacri, le alitudienze in tribunali per le cause, lo studio per ricevere i clienti, scrivere gli atti, studiare e lavorare. E quando arrivava la feriale tutti erano liberi, gli studi chiudevano per ferie e se ne riparlava tranquillamente a settembre. Oggi il mondo è cambiato e ce ne rendiamo conto tutti i giorni. E come ha evidenziato Nicola Procaccio sul portale iq.intel.it, la mobilità oggi, in tutte le sue forme, sta caratterizzando la nostra società iperconnessa. Il posto fisso e più in generale il lavoro stabile e a tempo pieno, cadenzato da precisi luoghi e periodi di pausa, ormai sono un lontano ricordo. Siamo sempre più multioperativi anche per le tecnologie. Tanto è vero, anche gli avvocati, soprattutto i giovani, incominciano a lavorare in mobilità, non solo a studio, ma durante le attese delle udienze. Vediamo nelle sale avvocati o lunghi corridoi, avvocati con iPad o notebook a scrivere una lettera o a rileggere o ridigere un atto, a presentare appunti, a coordinare il team di lavoro per la prossima incontro conference call. La società sta influendo anche sul modo di vivere, di comunicare, di lavorare e soprattutto di viaggiare. La vacanza ha perso il suo significato di assenza temporanea dalle proprie quotidiane occupazioni. Oggi abbiamo l'esigenza di essere sempre connessi, di curare la presenza online, le nostre relazioni professionali e personali, di seguire i nostri contatti anche nel periodo di ferie. Le nuove tecnologie e gli internet ci danno la possibilità di lavorare e di portare ovunque il nostro studio o i nostri fascicoli condensati in un piccolo spazio di uno smartphone o di un notebook. È sempre più difficile riuscire a separare il tempo da dedicare al lavoro nell'essere sempre produttivi da quello delle vacanze e dallo staccare la spina. Dobbiamo ripensare al modello di vita e prendere consapevolezza che lavorare in mobilità non vuol dire perdere la propria dimensione personale, sopraffatta dal lavoro. Anzi, è proprio l'opposto perché ci consente di recuperare il nostro tempo. Sta nascendo una nuova categoria, in nome di digitali, composta da imprenditori, professionisti o lavoratori, che non sono più legati alla scrivania o all'ufficio, ma che con le tecnologie informatiche da ogni parte del mondo possono collegarsi, lavorare e scoprire l'amore del viaggiare. Disegnano la loro vita in base alle loro reali passioni o interessi, basta il pc portatile e la connessione internet stabile. Il loro verbo è condividere, collaborare e cooperare. Il tempo e mobilità sono le nuove ricchezza. Addio beni e proprietà. Nasce lo smart working, da intendersi come mobilità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro, subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. Come lo ha definito il disegno di legge del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio del 2016. Autonomia, flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione dei talenti e fiducia diventano i principi cave del nuovo approccio al lavoro, sostituendo controllo, gerarchia e rigidità. Se usciamo dai modelli concettuali del posto di lavoro fisso, dell'attesa delle vacanze fino a ieri comune, rimaniamo imprigionati della nostra nostalgia fino a cadere nell'alienazione. Se vuoi scoprire e leggere le storie di nomi digitali, ti consiglio di andare sul sito nomedidigitali.it. Ora invece ascoltiamo Marco con la PCT digitale, la sua pillola del buon umore digitale. A te Marco! Tra i servizi che offre Amazon ai suoi clienti, ora c'è anche il sommelier. In Giappone il sito di e-commerce ha introdotto la possibilità di ricevere consigli sul vino da acquistare online da parte di sommelier certificati. Gli utenti interessati lasciano il proprio numero di telefono e nel giro di qualche minuto vengono chiamati da un esperto per una consulenza personalizzata. Il sommelier può suggerire i vini che meglio si sposano con determinate pietanze, quelli più adatte ad una festa in casa o ancora le bottiglie perfette da regalare ad amici o colleghi. La scelta è tra una cantina online di 8000 etichette, tante quante sono in vendita sul sito nipponico di Amazon. Grazie Marco per questa curiosità tecnologica che ci hai rivelato. Rivegniamo il tema. Nella prima parte ti ho parlato di nomi dei digitali, di come stia cambiando il concetto di vacanze e di ferie, di come le nuove tecnologie incidono sul lavoro, trasformandoli in smart working. In questa seconda parte ti segnalo alcune soluzioni tecnologiche che faciliteranno il lavoro in mobilità nella massima serenità. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. La prima soluzione tecnologica che ti suggerisco è un power bank, soprattutto se tu possiedi un iPhone. Quante volte siamo rimasti abbandonati dal nostro cellulare o dal tablet scarico senza la possibilità di collegarli a una fonte di alimentazione? Il power bank è la soluzione migliore per rimediare in parte alla scarsa durata della batteria dei nostri smartphone e tablet. È una batteria d'alta densità, comoda da portare in tasca. Collegato al tuo dispositivo avvierai il processo di ricarica. Su Amazon ci sono di tanti modelli e dimensioni. Quello che io ti consiglio è di prendere un power bank superiore a 10.000 ampere per consentire più cicli di ricarica. La seconda soluzione è l'acquisto di un travel organizer, un astuccio in grado di contenere tutti i nostri accessori elettronici, cavi, cavetti, penne USB, hard disk e power bank in modo ordinato e raccolti in un unico spazio e non buttati nelle nostre borse e così a caso. Sempre su Amazon ne trovi di tutte le dimensioni e colori in base alle tue esigenze. Comodi e ben fatti sono quelli della bubom alla portata di tutti. Ora passiamo all'autosoftware. Qui ti consiglio tre soluzioni basate sul cloud che facilitano la collaborazione tra gli utenti. La prima è Office 365, la versione online della suite di produttività di Microsoft che ti consente di accedere ovunque stai ai pacchetti Office, Word, Excel, PowerPoint, Skype for Business, Outlook, Exchange. Votata la collaborazione alla condivisione di documenti ma che a differenza delle Google App ti consente di lavorare offline con l'installazione dei programmi fino a 5 PC e a 10 device, sempre aggiornati all'ultima versione con 1TB per l'archiviazione e 60GB dedicati alla sola mail. Office 365 è compliance alla normativa in tema di privacy e sicurezza. I dati risiedono sul territorio europeo. Microsoft assicura addirittura la funzionalità dei propri servizi Office 365 al 99,9% e per lo 0,1% promette di metterci la faccia e il cash. Il servizio è un abbonamento annuale a 149€. Altra soluzione che non può mancare è Evernote, il servizio di archiviazione di note e documenti per essere ricercati velocemente in un secondo momento. Evernote non è solo una semplice app di scrittura di condivisione note. È diventato molto di più. Tra le tante cose puoi digitalizzare tutti i tuoi appunti cartacei attraverso la funzione documenti nell'app Evernote, archiviare anche i biglietti da visita delle persone che incontri. Non correrai più il rischio di perderli. Puoi associare promemoria le note per non dimenticare mai i progetti che stai portando avanti. Puoi creare veloci to-do list, presentare i tuoi progetti e altre funzioni ancora. In conclusione Evernote elimina la carta che ingombra e pesa e favorisce la collaborazione poiché puoi anche condividere con il tuo collega. Note singole e ontere il taccuini. La terza e ultima è Netlex Web. Il gestionale in cloud è semplice e professionale per gli avvocati della startup innovativa al 100% italiana. Con Netlex Web hai lo studio in tasca e se attivi anche la firma digitale remota puoi fare anche i depositi telematici dal tuo smartphone. Infatti per usarlo ti bastano una connessione internet, un pc, un tablet o uno smartphone. Tutto senza nessuna installazione, sincronizzandosi con il Police Web, Netlex Web ti permette di depositare telematicamente atti in tribunale, gestendo così anche la tua agenda legale, i documenti, le fatture, le scadenze, la posta e le parcelle. Tutte queste soluzioni vanno a semplificare la tua vita e ti fanno ancora di più apprezzare il fatto che viviamo il futuro digitale. Sei ancora convinto che lavorare fermo dallo studio sia conveniente mentre il mondo si muove? Concludo qui questa puntata. Nella descrizione del podcast troverai i link alle soluzioni tecnologiche che qui ti ho descritto. Lascia un commento alla puntata per farmi conoscere la tua opinione. Ti mando alla prossima puntata la quale sarà dedicata nuovamente a Telegram. Dopo la puntata 30 scrivimi fermo Telegram e sono giunte diverse domande a cui risponderò. Ciao!